E così il momento tanto atteso è giunto. La star più ricercata e braccata dai fans di questa dodicesima edizione dell'Ischia Global è lei, Selena Gomez, la movie star Disney per la quale da un paio di giorni c'è un vero e proprio stato d'assedio a minare la tranquillità relativa dell'albergo della regina Isabella di Lacomeno. Centinaia di teenagers da due giorni sostano senza riposo all'interno dell'area del noto albergo, alla ricerca della loro beniamina che dopo due giorni di sviate e fughe si è finalmente concessa alle fans. E così, mentre l'attesa con il naso all'insù e con in mano i telefonini sempre pronti si faceva sempre più febbrile, le ragazzine inneggiavano e chiamavano a gran voce Selena. Selena! 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 E di incanto il balcone fiorito si è aperto ed è apparsa lei ed è scoppiato il grido. Selena! 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 salutato con la mano, poi è rientrata per concedersi alla stampa, nella sala gremita come non mai in questi otto giorni di incontri di Global. In prima fila l'assessore regionale al turismo Pasquale Sommese, più in là quasi defilata ed in completo anonimato l'attrice romana Micaela Ramazzotti, appena ieri al centro dei riflettori e stamani semplice spettatrice tra le tante in attesa di una nuova star. Ed è apparsa Selena e subito i fotografi le si sono assiepati dinanzi, non paghi dell'ultimo scatto concesso con tanta generosità dagli organizzatori. Il mio futuro, ha risposto Selena Gomez, sogno di vedermi felice, fare cose che amo, crescere nel cinema e imparare tante cose nuove e magari fare un corso di cucina. Selena Gomez, tra le movie star Disney, è stata lanciata in tutto il mondo dalla serie dei maghi di Wolverly. 22 anni, il prossimo 22 luglio, texana di nascita, padre messicano, si presenta così, capelli lunghi tenuti lisci sulle spalle, un vistoso abito bianco non del look. Di Ischia dice, è un luogo meraviglioso, ho postato tutte le foto fatte fin qui, con il mare, la cucina, le persone che mi hanno accolto così bene, ci tornerò presto, promette. Le cifre di Selena Gomez sui social sono di tutto rispetto, oltre 21 milioni di followers su Twitter, 60 milioni su Facebook, 206 mila persone solo per la pagina italiana, 11 milioni su Instagram e solo sugli account ufficiali. Quanto alla carriera, conclusa la produzione dei maghi di Wolverly, riparte da Rudderless, il film presentato in anteprima europea al festival di Pascal Vicedonmini, ancora senza distribuzione in Italia. E poi la musica, dopo gli anni con la band, ora è da solista in giro con il suo Star Dance Tour. Non farò tappa in Italia per il momento, le basta evidentemente il bagno di folla di Ischia, oltre alle prelibatezze di qualche ristorante isolano e le follie di una ex adolescente troppo famosa ma sempre incline alle uscite proprie di questa età.